Le squadre dell'Unione Conegliano-San Vendoniano all'ordine dell'arbitro Battaglia di Arco Riva, provincia di Trento, coniugato dai signori Ponzeveroni e Falvo di Padova, queste le formazioni. Unione Conegliano-San Vendoniano, Rossetto-Sandri-Follin, Maccari-DeRos-Parro-Andrea, Armellin-Cordazzo-Freppon-DeRos-Sirizza. A disposizione l'elettore signor Giuliatto, Boletti-Brogio-Tronchin-Zago-Parro-Simone-Lorenzette-Cadrioschi. Edo Mestre, Zilio-Palmieri-Sporadore, Tevon-Tagliapietra-Zoffo, Sambogaro-Mestri-Nerdo-Berman-Bavanzo-Pivetta. A disposizione dell'allelatore signor Gallina, Veggian-Chinellato-Scarpa, Bellan-Basso-Baldan-Agostinetti. Grazie. Schilder! 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 Grazie a tutti. Oh, se l'è chiamato. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.